Mars Italia è orgogliosa di aderire al manifesto per l'occupazione femminile di valore donna. Infatti sia a livello globale che a livello italiano una delle nostre priorità sono le politiche a sostegno dell'occupazione femminile a sostegno di tutti i nostri associati, così chiamiamo i nostri dipendenti. L'Italia in questo senso è già un fiore all'occhiello. Il 57% dei miei manager sono delle donne, il 40% del mio board è occupato da delle donne. In Italia consideriamo prima di tutto i nostri associati come delle persone, crediamo fortemente nella promozione del talento. Promozione del talento vuol dire mettere le nostre persone nelle condizioni migliori per performare tutti i giorni con un corretto rapporto di work-life balance. Ecco perché per esempio politiche come lo smart working sono state ideate e sviluppate nel corso degli ultimi dieci anni proprio per cercare di creare le condizioni migliori per i nostri associati tutti i giorni. Sappiamo quanto questo sia importante per le nostre donne che in tutto e per tutto hanno un doppio ruolo sia in azienda che a casa.